Cosa ti è successo? Ha appena invitato Flair de la Cura. Cosa? Che cosa ha detto? No, naturalmente. Ha detto di sì. Non essere sciocca. Lei era lì che camminava. Sai quanto mi piacciono quando camminano. Non ce l'ho fatta. L'ho guardata e mi è scappato. In realtà, più che altro, le ha urlato. Faceva paura. E poi cosa hai fatto? Che altro? Sono corso via. Non sono tagliato per queste cose, Harry. Non so cosa mi abbia preso. Ciao, Harry. Mi piace sempre guardarle da dietro. Non mi guarderà più in faccia. Ehi!